Allora, i Francescani secolari, l'OFS, innanzitutto tanti auguri perché oggi si festeggia la vostra patrona, Ettore, oggi Sant'Elisabetta. Sì, la festa di tutti i Francescani secolari. E quindi avete individuato nella domenica che precede la festa della copatrona dell'OFS, Sant'Elisabetta, la prima storica giornata dell'OFS in comunicazione. Quindi come se fosse una giornata di comunicazioni sociali propria dell'OFS, dell'Ordine Francescano Secolare. Sì, abbiamo lanciato questa nuova iniziativa in occasione di questo anno che coincide per noi con un cambiamento importante del nostro piccolo ecosistema di comunicazioni. L'OFS d'Italia ha da vent'anni una sua rivista nazionale cartacea, è stata mensile fino a quest'anno, da quest'anno è bimestrale, Francesco Il Volto Secolare appunto. Ma negli scorsi mesi abbiamo ampliato la piattaforma di comunicazione aprendo un sito online, un nuovo sito online, FWS online, appunto è un'applicazione. Oltre a tutta la galassia delle presenze sui social. Allora, siccome c'era questa novità che abbiamo lanciato al Festival Francescano a settembre, ma che dobbiamo far circolare il più possibile nelle nostre realtà, ma anche fuori, abbiamo pensato a questa iniziativa che abbiamo chiamato OFS in comunicazione. Domenica scorsa, domenica 13, in tutta Italia, abbiamo chiesto alle fraternità locali di presentare nelle loro realtà, quindi nelle loro chiese, nelle realtà in cui si trovano, questo nostro insieme di strumenti di comunicazione. È stata una presenza semplice, la lettura di un messaggio che abbiamo fatto, soprattutto appunto a conclusione delle messe della domenica scorsa, e la distribuzione di materiali informativi. Un primo modo, un primo approccio per una presenza vicina alle persone, nel tentativo di allargare un po' ulteriormente il nostro giro, verrebbe da dire. I nostri strumenti sono certamente uno strumento di collegamento all'interno dell'ordine, ma hanno l'ambizione di parlare a tutti, di parlare fuori anche dalle nostre mura, dalle mura confortevoli delle nostre fraternità e dei nostri conventi. E di guardare al mondo che c'è intorno. Certo, a questo proposito avete celebrato la giornata dell'evangelizzazione OFS, proprio in concomitanza con la giornata mondiale dei poveri. Immagino che non sia stato un caso, ecco, le due cose in qualche modo possono andare di pari passo. Sì, perché l'attenzione alle fragilità, al mondo della povertà e delle persone che vivono con maggiore difficoltà la loro vita è una delle modalità caratteristiche con cui i francescani secolari, i francescani in genere, insomma, si pongono nella dimensione della Chiesa in uscita, quella che ci viene così spesso ricordata da Papa Francesco. E quindi anche questa coincidenza non è stata del tutto casuale, ecco, quindi scegliere quella domenica, oltre alla vicinanza, come dire, cronologica alla festa di Santa Elisabetta, aveva anche quel significato, cioè di caratterizzare il nostro guardare all'esterno come un guardare soprattutto alla parte più fragile, e più debole della società che ci circonda, della società in cui siamo immersi. Ecco, appunto, come avete definito, comunicare è fare missione, quindi l'Offs, la comunicazione off, vuole essere proprio un trade union tra informazione e solidarietà concreta, quindi, insomma, non resta comunicazione fine a se stessa, ma in qualche modo vuole abitare le periferie di cui parla Papa Francesco. Vogliamo ricordare il sito internet, Ettore, di Francesco? Tfusonline.it, www.fusonline.it. Francesco, vostro segolare. Stesso nome per l'applicazione, che è scaricabile da tutti gli store, sia per le varie piattaforme Android e iOS. E oggi questo è lo strumento più immediato con cui noi facciamo la nostra attività di comunicazione, con, come mi piace dire, cercando di fare soprattutto un giornale. Poi è anche un giornale francescano, un giornale ecclesiale, ma è soprattutto un giornale, cioè che guarda al mondo e prova a raccontarlo con gli occhi e con lo spirito dei francescani secolari. Vediamo, credo che abbiamo pronta la pagina fwsonline.it, proprio per... Ce l'abbiamo? No, non possiamo. Ah, non possiamo. Va bene, perché abbiamo in collegamento il nostro ospite. Va bene, comunque avremo modo di tornare a parlare, appunto, anche perché, come abbiamo detto anche con il ministro nazionale OFS, Luca Piras, quando ci sono iniziative, progetti dell'ordine francescano secolare, siamo a disposizione. Grazie Ettore per essere stato con noi, ancora tanti auguri, quindi un augurio che davvero rivolgiamo a tutti quanti i francescani e le francescane d'Italia. Vuoi aggiungere qualcosa, visto che oggi è la vostra festa? No, volevo solo un particolare e anche un'occasione segnalare il fatto che tra non molti giorni, alla fine di novembre, tra il 25 e il 27 di novembre, l'OFS d'Italia sarà proprio a San Giovanni Rotondo per la sua Assemblea nazionale. Mi piace ricordarlo per questa vicinanza tra la nostra esperienza e la vostra esperienza. l'Assemblea che si intitolerà Fuori perché? Fuori con chi? Fuori per chi? Il titolo che richiama l'Assemblea che abbiamo fatto a marzo, che si chiamava, che era stata intitolata Tutti fuori, anche qui siamo sempre sul tema della Chiesa in uscita. E qui rifletteremo un po' sulle motivazioni e sui compagni di strada, i destinatari di questa uscita. Lo faremo appunto a San Giovanni Rotondo dal 25 al 27 di novembre. Dal 25 al 27 novembre, quindi manca davvero poco. Vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo, aspettiamo l'Ordine Francescano Secolare Nazionale d'Italia. Quindi grazie ancora, un caro saluto e un saluto di pace e bene. Grazie Ettore Colli Vignarelli. Grazie a te, un saluto a tutti e grazie per questa opportunità. A presto!